Stanno seguendo la pista dell'omicidio gli investigatori della polizia di Firenze dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nell'ex caserma a lupi di Toscana. Si tratterebbe di un nordafricano, forse un uomo senza fissa dimora. Per gli uomini della polizia scientifica ad ucciderlo sarebbero stati alcuni colpi d'arma d'attaglio inferti alla gola e all'addome. Solo successivamente il corpo sarebbe stato dato alle fiamme, probabilmente nel luogo dove questo pomeriggio intorno alle 2 è stato ritrovato da un carabiniere della compagnia di Scandicci durante un controllo dell'edificio. Gli agenti hanno trovato anche alcune tracce matiche all'interno di un'auto, un'arena Clio, parcheggiata nel piazzale davanti alla caserma. Il mezzo è stato preso in consegna dalla polizia per capire se le tracce di sangue sono della vittima. Intanto si cerca di risalire all'identità dell'uomo. Nelle prossime ore, oltre all'autopsia, verrà disposto anche l'esame del DNA. Grazie a tutti.